La sconfitta La sconfitta Per gli identificati sarà poi la magistratura a qualificare la tipologia del reato che potrebbe andare dal razzismo alle meno gravi ingiurie. Quello che rimane per ora è certo è la brutta immagine di una città che negli anni ha fatto di tutto, ma evidentemente non abbastanza, per togliersi l'etichetta di razzista. La sconfitta